Tutto ritorna come prima, nel senso che le gravide o comunque sia chi ha necessità del punto nascite è a disposizione di tutti i cittadini. Certamente, da oggi anche se in misura provvisoria perché dovrà decidere sempre il tribunale fino a quando il punto nascita di merda è riaperto a tutti gli effetti, come se il provvedimento scopelliti non fosse mai esistente. Bene, grazie.